ho scoperto un pozzo adesso scendo forse poche persone la conoscono questo lungo la strada conduce alla comicella ecco il pozzo adesso scendo questo è l'interno vedete l'interno del pozzo qua da dove sono ecco faccio vedere da qua mi sposto qua ecco qua questo era molto profondo l'epoca della costruzione non lo so questo forse avrà più di 100 anni vediamo piano piano allora il bel lapto vedi la parte superiore forse abbiamo questo lato l'altro lato l'est così con l'altra parte scendo piano 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 l'acqua non c'è fino a poche giorni fa c'è no ancora c'è ma questo è molto più profondo di quello che sembra eccolo qui margine l'altro lato qua ci sono delle zanzare la parte superiore lì è arrivata qua dove sono sceso ecco qui adesso vi faccio vedere con la mano alzo piano piano il coso adesso immaginiamo che io sto facendo scendo piano piano in corsia vedi vado sotto questo panorama poi lo rialzo vedo l'area circostante come un drone vedi gira 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 poi scendo qua particolari delle pietre guardiamone con l'altro lato vi metto al limite di questo lato per avere tutti l'incuocatore vediamo molto interessante vedi questo è un pozzo tutto resistente una vera e propria opera d'arte contiene molti metri cubi di acqua e l'acqua si accumulava durante i mesi invernali approfingi al pozzo non lo so comunque questa forza da un altro paio di metri perché qua ci hanno buttato non so chi è che ci ha buttato questi metri questi ce lo stanno buttato perché prima non c'era questa vera che scopo non lo so sono quasi uscito ecco qua sono uscita vedi faccio vedere qui adesso vorrei mettere una inquadratura per farvi vedere un'altra pietra qua ecco un'altra pietra si vede un po' si vede adesso io scendo scendo a posare ecco qua un'altra pietra un'altra pietra